bella a tutti ragazzoli e benvenuti un attimo scusatemi un attimo bloccato bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video sono Manolo941 e oggi siamo tornati a giocare a Painball Big Painball su Roblox allora ragazzoli siamo su una partita già iniziata da circa 3 minuti perché sono partite da 15 minuti e mancano 12 minuti alla fine siamo a livello 3 e niente signori non perdiamo tempo partiamo subito e andiamo a fare un po' di cacciara andiamo andiamo allora fatemi capire un attimino come siamo combinati ok quello amico mio sì noi siamo la squadra rossa ok ovvero spariamo pallotto alle rosse devo capire un attimino la mappa raga salve buongiorno quello è un nemico quello anche quello là è un nemico spara 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 l'abbiamo preso noi no qualcun altro ci ha fregato la kill bello da qua no ma chi è questo qua come si è permesso XX Dark ok stiamo attenti a XX Dark allora scusate vorrei evitare di fare figure assurde lo subito all'inizio quindi dai 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 qualcuno dobbiamo riuscire a ammazzarlo qualcuno dobbiamo riuscire a ammazzarlo dai dai calma calma guardalo 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 ma che mira abbiamo ma porca miseria raga c'ho un problema di mira c'ho letteralmente un problema di mira ok dai 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 che ce la facciamo dai che ce la facciamo salta 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 dai è così dai così dobbiamo cercare di fare qualche kill no ma dai super super rinno super rinno ma chi è super rinno ma che non minciano quelli degli nostri avversari oggi l'altra volta erano più simpatici c'era la bella c'era qualche avversaria femmina che era più simpatica da affrontare qui sono tutti maschi sono tutti agguerriti dai 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 che ti piglio a pallonetto ti piglio a pallonetto no ma ha preso lui Azbo Azbo lo volevo prendere a pallonetto raga ma ha preso lui e va bene dai 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 che ce la facciamo dai che ce la facciamo perché hanno messo una torretta qua che non serve a nulla non serve a nulla questa torretta qua allora stiamo calmi i proietti le arrivano da no 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 ancora ce l'ho solo a Azbo no dai l'avevo quasi preso ma dai ma che nervi non stiamo a fare non stiamo riusciti a fare neanche una kill raga mamma che partita qua stanno a distrugge tutto perché stai distruggendo la nostra ma perché ha distrutto no no siamo morti col drone sì col clone col drone ma porca miseria ci mancava solamente il clone il drone clone aiuto aiuto raga aiuto riusciamo a distruggere sto drone ci riusciamo a distruggere il drone dove stai? indossare il drone distruggi il drone no siamo morti di nuovo a causa del drone riusciamo a distruggere quel cazzarolo di drone si può dire cazzarolo? sì penso di sì che ricordi si può dire dai dai indossare indossare sei coraggio dai non può spararmi attraverso il muro ma dai non puoi sparare attraverso il muro che cosa sei l'ander sei un drone quello ha fatto una brutta capriera all'indietro allora cambiamo lato noi stiamo letteralmente dai mamma mia come non li sopporto questi droni mi distruggete quel drone scusatemi mi distruggete quel drone no quella è una torretta mi distruggete quel drone porca miseria oh abbiamo fatto qualcosa? no siamo morti ci hanno levato ancora la kill a noi perché non riusciamo? non abbiamo fatto ancora nemmeno una kill raga non abbiamo fatto nemmeno una kill abbiamo fatto una kill no distruggiamo quella torretta abbiamo distrutto una torretta aspetta distruggiamo anche l'altra eh dai che rottura di scatole it's dark dark lì come cavolo ti chiami dai 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 mancano 8 minuti mancano 8 minuti abbiamo fatto abbiamo distrutto abbiamo distrutto qualcosa abbiamo distrutto qualcosa riusciamo a beccare la torretta là senza farci uccidere dai 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 un po' più su un po' più su un po' più giù un po' più giù e beccala quella torretta mannaggia dai 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 uuuuh ok ok no mi hanno colpito alle spalle questa si chiama bastardata quel drone mi ha colpito alle spalle quando noi abbiamo distrutto la torretta non si fanno queste cose dove sta il drone? dove sta il drone assassino? il drone assassino dove sta il drone? bastardo sei lì sopra ti vedo 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 sei ancora vivo sei ancora vivo qualcuno lo distrugge sto drone cioè stiamo a combattere contro un drone raga oh è morto ok e ovviamente la kill non l'abbiamo fatta noi non l'abbiamo distrutto noi il drone saliamo sulla torretta la solo ti beccano uuuuh finalmente una kill dopo solo 8 milioni e siamo da super rinno ma porca miseria ma porca di quella miseria ma possiamo passare via terra? c'è qualche maniera saliamo da sopra può essere che da sopra abbiamo una vista migliore lo reputo che penso che siamo più ecco siamo molto più esposti sicuramente siamo molto più esposti sicuramente mamma mia come volano i proiettili signori miei come volano i proiettili come volano male i proiettili no 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 ma io non posso sparare a terra perché quello stava appunto a terra no quello il più lontano di tutti mi ha ucciso Tielan 14 chi è Tielan? no dall'alto facciamo schifo raga dall'alto facciamo proprio schifo già facciamo schifo in situazioni normali dall'alto è ancora peggio riusciamo a essere tattici riusciamo a ucciderlo quello no il drone è il drone mamma mia ci stanno riempiendo di droni raga ci stanno uccendo con i droni porca miseria a loro ci stanno uccendo con i droni dai 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 oh ok uno l'abbiamo fatto fuori stiamo semplicemente ci stiamo impegnando a distruggere semplicemente i droni oh un altro fatto fuori bello così bello così ora lì sopra ci sarà il tizio no non c'è il tizio guardalo dov'è guarda dov'è il tizio rompi scatole che non grande così grande così grande così mannaggia Azbo lo stavo ammazzando Azbo mamma mia mi ha fregato lui mi ha ucciso prima lui ora è vendetta voglio la vendetta su Azbo signori miei voglio la vendetta su Azbo in questo momento non so a chi sto sparando va bene allora lì ce n'è uno sicuro e infatti te ciappo male a te e alla torretta pure tua che ciappo male alla torretta bello così chi è Paola Paola mi ha ucciso Paola con che arma c'ha Paola dai avevo fatto una bellissima botta di kill bellissima mannaggia di una pupazza 6 minuti 6 minuti ma quante kill abbiamo fatto noi perché non mi segnali i nostri kill dai l'abbiamo giocato bene con che kill siamo riusciti a farla c'è il tizio da là sopra no ci spostiamo di qua non ci sta più nessuno riesco a ucciderlo mamma che mira dai era lì sotto mannaggia per una kill che riusciamo a fare ce ne fanno subito un'altra alle spalle praticamente dai dai così possiamo fare il radar possiamo attivare il radar non attiviamo niente però in questo preciso momento tu sei morto sei morto dai superinno mi ha tirato il drone addosso e mi ha ucciso guarda raga ve l'ho detto per una che riusciamo a farne praticamente ci ammazzano subito dove ci debba essere un drone che rompe le scatole ci debba essere un drone che rompe le scatole può essere dove sei il dronino dove sei piccolo drone piccolo drone rompi scatole dai che non riesca a centrarlo oh attraversate il muro se mi uccide attraversa il muro mi incavolo parecchio dai ma è dietro il muro ma non è dal lato mio è dietro il muro ma porca miseria comunque non è giusto raga cioè i droni che sparano attraversa il muro non esistono i droni che sparano attraversa il muro non esistono dai raga non ci sto non ci sto a morire con i droni che sparano attraversa ma lo fate fuori questo drone ma lo fate fuori qualcuno lo uccide questo drone mannaggia Sta a far più stragi sto drone Che 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 non so che cosa Oh e questo ce lo siamo levati dalle scatole Oh perfetto Ora riusciamo anche a levarci dalle scatole Il tizio no c'è un altro drone Quando mai Quando mai Io No mazzo Che ha scritto quello Dove sta il drone Il drone sta al di là del muro Il drone sta al di là del muro Ma perché si mimetizza No vabbè dai dai non ci sta Perché deve fare così sto drone Non si è capito Ma poi scusami i droni non stanno vicino A chi li crea Oh ti ho visto ti ho visto ti ho visto Oh ok Oh un altro un altro un altro Sempre quello di suo erino Che paranoie Oh l'hanno distrutto Si spera che l'abbiano distrutto Forse qualcuno è riuscito a distruggere Staliamo da questa parte Vediamo se riusciamo a beccare qualcuno Dai 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 Siiii T'ho preso male T'ho preso male zio Volevi No vabbè raga Non li sopporto più sti droni Sti droni non li sopporto più Mamma mia Che sono cose insopportabili Che sono insopportabili sti droni Mamma mia E' sparito Sarà andato al di là del muro Al di là del muro Me lo vedo comparire un attimo Ecco e lo sapevo Io lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Mamma mia Astag droni vi odio Cioè è impressionante Dov'è Dov'è Ecco le cose Vedete passa attraverso il muro Dai ma non è corretto così Non può passare attraverso il muro Raga mamma mia Volano proiettili Volano proiettili come se non ci fosse un domani Quello si è lanciato Ma nel voto è un pazzo Noi andiamo da questa parte Ecco un altro drone E lo sapevo Io lo sapevo perfettamente Due minuti e cinquanta Due minuti e cinquanta Non è stata una bellissima partita Però ci stiamo divertendo Se non fossero questi droni Che rompono le scatole Praticamente Secondo me riusciremmo Ecco Perfetto Non ho capito chi mi ha ucciso di preciso Però va bene Noi potremmo attivare sia il radar Dai distruggilo Bello così Abbiamo distrutto un drone raga Se mi ammazzo un altro drone subito Mi incacchio parecchio Dai dai colpisci Colpisci quello colpisci Uccidilo 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 Non l'abbiamo preso noi Non l'abbiamo preso noi Ci ha preso XX Dark XX Dark Compriamo un'arma raga Duemila e sette Quattromila e cinque Sei e cinque Tredici No dai Compriamo questa Potenziamoci un poco E comprala Sì Yes Compra Sì Dai Vediamo cosa fa questa Abbiamo un'arma più potente Forse Oh Questa spara direttamente Bello così Bello così Questa spara A cannone praticamente Non abbiamo bisogno Bello E uno l'abbiamo fatto fuori subito Mannaggia Abbiamo fatto una kill al volo Raga Questa è bella Questa spara Spamma Come si può dire In termine tecnico Spamma i colpi Non ho bisogno di ammarcare più volte Lo stesso colpo Perché spara direttamente Adesso ci divertiamo Signorimi Adesso ci divertiamo Se non fosse per i droni Se non fosse per i droni Ci divertiremmo Se non fosse per i droni Ci divertiremmo Cambiamo lato Cambiamo lato Mi trovo meglio Sparo da questo lato Tu sei un uomo morto Lo sai vero? Lo sai che sei un uomo morto? Sì Sei un uomo morto Queste torrette le possiamo distruggere? Sì Una è andata Una è andata raga L'altra purtroppo Ce l'ha messa In quel posto Però va bene Però va bene Ci stiamo difendendo bene Ci stiamo difendendo bene E questa cosa mi piace Questa cosa mi piace Dove è il drone? Fai uscire il drone che c'è nascosto lì dietro Non c'è più il drone Ho visto una fumata Allora X dark No Volevo uccidere X dark Volevo uccidere X dark Devo prendermi la vendetta su X dark Raga Devo prendermi la vendetta su X dark E da quel lato E da quel lato Dobbiamo uccidere X dark Mancano 50 secondi Mancano 50 secondi Raga Mancano 50 secondi Devo prendermi la vendetta su X dark Ma la sono presa Mi sono presa la vendetta su X dark Spettacolo Ho distrutto anche una torretta Quello dove sta andando Dove stai andando zio? Sei un uomo morto Sei un morto che cammina? No Sono io il morto che cammina Azbo Azbo mi ha ucciso Abbiamo 30 secondi Raga Ho ucciso XX dark Soddisfazione Mi sono preso la vendetta su XX dark Avrò la mia vendetta in questa vita Nell'altra Ce l'ho avuta in questa Ma sono morto per un altro drone Mamma mia Come non li sopporto a questi droni Raga Ma pensavo fossero più Veramente Cioè non pensavo fossero così antipatici Guarda guarda questo Guarda questo Distruggilo Distruggilo Guarda che è scappato Guarda che è scappato Mannaggia Ecco l'ecco 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 Dai Non può spararmi attraverso il muro 5 secondi E' finita raga E' finita così E' finita così 2 1 Finita La partita è finita Signori miei E' andata così E' andata così Abbiamo fatto 9 9 kill praticamente 9 kill Buono Buono E' andata bene E' andata bene ragazzoli Pensavo più particolare Ma è andata bene Detto questo ragazzoli Vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Che darete a questa serie Noi ci vediamo sempre qui Prossimamente sul canale Per un prossimo video In un altro contenuto Detto questo Bella raga Ciao 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 Musica